Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926 Come avete visto dalla live e dagli short di ieri Signori, Calidu Colibali Fra poche ore possiamo dire perché addirittura Calcio Mercato dice che è già in volo verso Londra per fare le visite mediche Sarà un giocatore del Chelsea Va benissimo, io l'ho sempre detto Qualora fosse arrivata un'offerta da parte di qualche squadra Intorno a una cifra dai 30 ai 40 milioni Se non sbaglio sono 40 milioni che il Napoli incasserà dalla vendita Poi bisognerà vedere le cifre nel dettaglio quando saranno presentate Però fatto sta che sono sincero Non sono deluso da questa vendita del giocatore Perché ragazzi, Colibali è stato 8 stagioni a Napoli Ha dato tutto per questa maglia A differenza di Guain che se ne andò proprio nel momento clou della stagione Nell'anno clou che Napoli poteva veramente vincere lo scudetto Ecco, lui ha tradito di più di Calidu Colibali Calidu Colibali anzi è stato sempre corrente a quello che ha detto Perché lui ha sempre detto no alla Juventus ragazzi E non è andato alla Juventus Quindi questa cosa gli fa onore a Calidu Colibali Ragazzi, come detto ieri Le parole di Luciano Spalletti dette in conferenza stampa ieri Ma a parte poi me la sono andata a rileggere la conferenza stampa Ma quelle sono domande Cioè, il tuo amico a cosa fai? La fascia di qua? Cioè, ma le domande che sono state esposte da dei bambini Cioè, cara SSC Napoli Tu prima dici che vuoi aiutare i tifosi Vuoi fare una roba con i tifosi per unirli tutti Sul lato comunicativo E poi ti fai fare le domande dai bambini Perché forse hai paura di una domanda più aggressiva Va bene E invece no Ti sei fatto fare le domande quasi da tutti i bambini Poi ti sei fatto fare Perché io dico che su Youtube c'è gente che nemmeno potrebbe parlare di calcio? Ragazzi, c'erano tanti Youtuber ieri Ma non per questo Perché io non denigro nessuno ragazzi Che sia chiara questa cosa Però Iung, mi hanno fatto le domande Chi è il tuo giocatore preferito? Chi è che ti ha messo più in difficoltà? Cioè, ragazzi, ma di cosa vogliamo parlare? Una domanda semplice era da fare a Napoli ieri sera Ed era da dire I soldi che abbiamo preso con la vendita di Caliducco Libali Saranno investiti? Come saranno investiti questi soldi? Cosa vorrete fare? A cosa dobbiamo puntare? Perché avete parlato di Scudetto Ma visto l'addio di Caliducco Libali Driss Mertens, Lorenzo Insigne Edo Spina Il Napoli Punta allo Scudetto O Punta ad entrare in Europa League Era una domanda semplice da fare Ma nessuno ha avuto il coraggio di farla E chissà come mai Chissà come mai Tutti questi Youtuber Che fanno la rivolta contro la società Di qua e di là E poi C'avete la possibilità di fare delle domande Aperte Perché io penso erano domande aperte Non erano domande scritte Erano domande aperte Non avete fatto niente Hanno passato a capo E hanno chiuso lo chess Muti Cioè Siete ridicoli Siete veramente ridicoli È tutto Giusto per chiudere La serata di ieri sera Ma C'è sempre da prendere qualche spunto Nelle conferenze stampi Di Luciano Spalletti C'era Di Lorenzo Racmani Spalletti ha detto Guai a chi tocca Coulibaly Guai a chi l'offende Guai a chi di qua Guai a chi di là Ecco Ora io mi aspetto Le dimissioni di Luciano Spalletti A questo punto Perché Da come era trapelato Dai giornali Avevate detto Cari giornalisti Perché poi Bisogna raccontarle le cose Come stanno Avevate detto L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti È rimasto a Napoli Perché aveva la Priorità Sul calciomercato E qualora Calidu Coulibaly Fosse andato via da Napoli Spalletti Arebbe chiesto Le dimissioni Sto aspettando Le dimissioni Di Luciano Spalletti Se siete tanto coerenti Va bene Aspetto le dimissioni Di Luciano Spalletti Ma siccome Non siete coerenti Anche con le parole Che avete fatto Con il DS Giuntoli Negli scorsi giorni Poi è stata smentita Dall'agenzia di Calidu Coulibaly Che non è mai stata arrivata Un'offerta Al calciatore Di 6 milioni Ma molto meno E non quelli di 6 milioni Come diceva Giuntoli Quindi Vi ha smerdato Anche Calidu Coulibaly Ma va bene Va bene tutto Ecco qui La vera domanda è questa Con i soldi di Calidu Coulibaly Con il budget Trasferimenti Che abbiamo Per il monte Incaggi Dei giocatori Quali Calidu Coulibaly Che è andato via Insigne è andato via Ospine è andato via Che erano quelli Che percepivano di più Mertens uguale Con questi soldi Riuscite a prendere Paolo Di Bala Ecco qui Era questa la domanda Da fare Senza cadere Nel ridicolo A fare domande Assurde Che non hanno senso Era tutto qui Ora Luciano Spalletti Ha parlato di Di Bala Ha parlato di Di Bala Come se fosse Già un giocatore Del Napoli E il Napoli Ha già acquistato Il calciatore Perché se no ragazzi Non Non mi puoi fare Queste Queste Interviste Queste cose Dicendo Guarda Di Bala È un calciatore Che crescerà moltissimo Con noi Si adatta molto Al nostro gioco Diventerà un top Qui a Napoli Ho letto Le risposte Ho detto Si è sciomunuto Spalletti Perché O questa era Una provocazione Alla società SSC Napoli O Di Bala È veramente Vicinissimo a Napoli A chiudere per il Napoli Perché se no ragazzi Non si spiegano Queste parole Di Luciano Spalletti Ecco Come detto Parole che Mi lasciano Un po' Perpresso Perché Se tu Veramente Vuoi acquistare Di Bala Perché sei andato In conferenza Stampe Ha detto Non abbiamo mai Parlato Con Di Bala Non abbiamo Dato 6 milioni A Coulibaly 2 milioni E mezzo A Mertens Ora Siccome L'animo A Di Maro È molto Triste Secondo me E poi è stato Confermato Da Calcio Napoli 24 24 Questa mattina Che Spalletti Ha dato Ha detto Vicino ai ragazzi Guardate Che Calidù È andato via Calidù Non ci sarà La prossima stagione Quindi Cerchiamo di rimboccarci Le maniche Perché ragazzi Coulibaly Era il 70% Della difesa Del Napoli Diciamoci la verità Poi Quando è stato In Coppa d'Africa Juan Jesus Non ha fatto Sentire minimamente L'assenza Di Calidù Coulibaly Però Non averlo Per tutta la stagione È un conto Non averlo Per un mese È un altro Diciamoci la verità Ecco Quindi Questo acquisto Di Osticard Che ancora Deve essere Confermato Dalla SSC Napoli Per ora Ha detto Che è stato Ufficializzato Manca solo La consegna Di testimone Da parte Delle due società Però Gianluca Di Marzio Ha detto Che è già stato Scritto Questo passaggio Di qua e di là Allora Se anche questo passaggio È stato deciso Perché esce il nome Di Acerbi In questo momento A Napoli È proposta Di 5 milioni 5 milioni Il giocatore Quindi Non L'ingaggio Perché 5 milioni A Romagnoli Sarebbero Ad Acerbi Sarebbero Soldi buttati Al vento Ecco Perché Se tu hai Già Osticard Come dici tu Stai varando Su Acerbi Avevi Kim Del Fenerbacek Perché non vai A prenderti lui Che è molto Più forte Di Acerbi Cioè Io è questo Che non riesco A capire Da questa società Ragazzi Poi dite Ma Napoli Ma tu Attacchi Attacchi sempre De Laurentiis Sì Perché ultimamente Sta facendo Solo cappellate Se vuole Vendere la società Perché io sono convinto Che poi lui venderà La società In qualche modo La venderà La società Venderà sia Il Bari Sia il Napoli Si eleverà dal mondo Del calcio Perché vai Di Laurentiis Si è finito L'Erdie De Laurentiis A Napoli E al Capoligna Ecco Io mi aspetto Che Ora ci sia Qualche contestazione Ma sempre Nel modo pacifico Per dire Veramente Ti sei venuto I migliori Ma noi Quest'anno Per cosa Lottiamo Per la Conference League Per cosa Dobbiamo lottare Noi del Napoli Ragazzi Campagna abbonamenti Che non è stata Presentata Dovevano presentare Questa campagna Abbonamenti Non è stata Presentata Le magliette Ah sicuro Ci saranno A di mano Nello store Non c'è niente Avete rifatto Il sito del Napoli E va benissimo Perché quello Faceva veramente Schifo L'avete Aggiustato E va benissimo Però Manca trasparenza Manca trasparenza In questa società Ma In un sito del Napoli Dove c'è scritto Il presidente E c'è tutta la carriera Di Aurelio De Laurentiis Ma veramente Stiamo facendo Ma veramente State facendo Cioè Io l'ho detto La vendita Di Coulibaly La potete solo risolvere Andando a prendere Il numero 10 Che era la Juventus Paolo Di Bala Perché se no Io non so Veramente Quest'anno Per cosa Dobbiamo lottare Cioè Avete fatto E lo ribadisco Youtuber Che hanno fatto Domande assurde Assurde Che voi Vi proclamate Siamo i migliori Youtuber Perché ci avete Un milione Di iscritti Ma poi C'è Infine Infine C'è Parita Un pesce Alert Per farvi capire Quindi Quindi è inutile Ragazzi C'è gente Che a Napoli Farebbe meglio A non uscire Proprio qui su Youtube Ecco Dopo Dopo che hanno attaccato La società Per tutti gli anni Per tutte queste cose Poi andate lì Tutti pace Tutti pace bene Avete attaccato Spalletti Avete attaccato Questo E poi andate lì Tutti con la testa bassa Foto Video Eh ragazzi Queste sono cose Che poi Spero che i vostri iscritti Lo vedranno Ecco Diciamoci la verità Ma tanto È così Funziona così Per fare visual Basta leccare il culo Qui su Youtube Detto questo Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questa Di questa vendita Di Cali Duculibari Al Chelsea Io come detto Sono felice per il giocatore Perché è l'ultimo treno Veramente Della sua carriera Che potrebbe Aiutarlo a vincere qualcosa Di importante Naturalmente Quindi Poi fatemi sapere Se con i soldi Ricavati Da Ospina Insigne Mertens Culibali Si può andare a prendere Di Bala Perché a questo punto Tu Di Bala Lo puoi andare a prendere E se vuoi fare Questa Se vuoi dare questa svolta Alla tua stagione Serve qualcuno Con fantasia Perché Travasteglia Guarda Steglia È forte Sì Nessuno lo mette in dubbio Però Ti serve uno Che infiammi Lo stadio di Armando Maradona Sempre e comunque Forza Napoli Dal vostro Neapolis 1926 Ciao a you